Oggi signori andremo a reagire al mitico Hitman JTA, dopo un po' di tempo che non reagivamo a questo colosso da console Oggi andremo a reagire a un suo video con titolo Cosa 10.000 ore nelle ranked fanno? Ora, uno può avere 10.000 ore nelle ranked? 10.000? Penso di sì, perché se ci giochi da 8 anni penso pure di sì Sono un po' tantine, 10.000 ore nelle ranked, però tutto è possibile, ok Passiamo un po' che non ha stompato i timpani La qualità, ragazzi, è sempre quella Ma veramente è caduto dalla botola e si è rotto? Cioè, lui è caduto dalla botola ed è morto Ma io non l'ho mai visto questa cosa Allora, molto funny Molto funny, molto funny Molto funny Vabbè perché c'era pure un HP C'è stato una successione di eventi Veramente casuali, ok E' sfigati ovviamente, sfortunati Allora, uno bello spawn kill con la pistola? Che fa, un to-5? Eh, vabbè La mitica Iana Cioè, Iana, sì Ela, magari E vorrei fare un altro? Dove, dovrei, dovrei Cioè, dove sta mirando lui? Ah Porco due, ragazzi, lo faccio io Questi in advantage pick Mi distruggono Mi devastano Cioè, io non lo farei mai Mai, sto pick di merda Soprattutto a sinistra Dove tu non hai proprio Il vantaggio a destra Quindi picchi pure a sinistra E' vicino alla finestra E' tutto sbagliato Quel picco Tutto sbagliato Tutto totalmente sbagliato Però Gli altri lo fanno Quello faccio io Faccio schifo Buongiorno, come va? Allora Ma c'è Che schifo c'ha nell'arma? La presa di Rek Allora Potremmo anche dire Alla Chiper Iana, eh Che ha lanciato la granata Giusto, giusto Quando stavo scendo, eh Ti compro con i punti fa Ma non mi fa schifo, grazie Non voglio Cioè, nel senso Apprezzo, eh Però Madonna, ragazzi La mitica F2 da console E' sempre quella Sta skin è figa Certo Non la prenderei mai Perché c'ho L'altra Fichissima Che Che uso nei video Ora non mi ricordo Ovviamente Come l'ho presa E come si chiama Sinceramente, però Forse era di un Di un bus No, non lo so Sinceramente Oppure era Esports L'ho comprata Non Scavo, né Però questa è pure bella Dei rogue Forse Zero rinculo Eh, ma tutti Ragazzi, tutti quelli che io guardo Che reagisco Che usano Twitch su console Hanno un regoile Eh, sono fortissimi Sono delle bestie Allora, l'ha visto Fermo in Vanatelation Se non sbaglio No, era fermo là In server Ok Ragazzi Vi giuro ormai Le sole nero Mi stanno cadendo Proprio Di bellezza Di interesse Veramente Perché ci sono Da così tanto tempo Sono sempre le stesse Che veramente Cioè È noioso Ormai Cioè Giocare Cioè Mettere un'arma Sole nero È veramente Noioso Cioè Belle le armi Ormai Ma infatti Quelle esports Ragazzi Sono belle Perché sono tutte Colorate Strane Che non t'aspetti Quelle sono belle Ma queste cose Esports Ogni due secondi Che falle Porco Tu e Zerk Magari Anche se Sull'SMG Ci sono Alcune skin Degli esports Carine Ci sono comunque Ma perché si ostina A sparare A quello Cioè Prima faceva 10 di vita Ma ora ne fa uno O 5 Non mi ricordo Uno Ma l'ha noccato Perché che l'ha noccato Che mettono nella pace Un po' di cose Quanti anni ha Sto ragazzo Tanti anni ha Sto bambino No Ma che sfiga Eh ci sta raga Perché non li vedeva Loro stando fuori Quello non li sentiva E vedeva E quindi Pensava magari Erano in In acqua O non lo so Esce anche l'evento Di Halloween No Quello ragazzi L'evento di Halloween Uscirà Verso il 15 Sta lagando A fare schifo Sto skin mi piace No Ma non lo so Un po' così è così Invece raga Usa la qualità Altissima Vero Cioè non ha quella Penso che Luigi Ma lui gioca 60 fps Perché in teoria Se Metti questa grafica Non puoi mettere i 120 Ho sbaglio Oh Vabbè Io Cerco di indovinare Ovviamente Perché non ho la console Bel tap Complimenti Ma di che skin è poi questa Non capisco quale skin sia Sinceramente Aia Pascale Mamma mia che mira di merda che ha avuto Menomale che l'ha preso Bundle Prime Gaming Questo è il Bundle Prime Gaming Quindi ce l'ho pure io Non lo so Ciao Fabrizio C'era tempo fa Non è di ora E io non so se l'ho preso Sinceramente 3 3 3 Facendo Fa un po' troppo casino Si è messo lì Allora ce n'è una in libreria No Farò non l'hai preso Allora posso dire una cosa Mi concedete di dire una cosa Rispetto agli altri video Ma non sta smirando un po' troppo Ma non sta perdendo un po' di qualità E prima era più bravo Minchia sembra Zerk con la mira Io ci reagisco spesso a Hitman Ma prima non faceva così tanto cagare con la mira Forse era una giornata particolare Forse era una giornata particolare Non lo so Un po' così Non capisco Non lo senti Zerk Veramente Ciao Benz come va? Un po' un po' un po' un po' di merda Cioè Devo dire Nozer Vabbè Io non è che Faccio più cagare di lui Quindi non è che Però rispetto a Come gioca sempre Di solito Siamo abituati a vedere Altre skill di mira Diciamo E invece Però con l'F2 Gioca sempre bene Madonna ma quella Zami ha fatto un labirinto Cioè sta girando il prossimo Maze Runner là dentro C'è il regista Sì sì vai 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 più mori più mori Vai gira 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 Vai parti Vai 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 che c'è il mostro Aia l'ha visto Laghi per aruni Porco due Questo è l'Hitman Che a me piace Dai Questo è l'Hitman Che mi piace È bello così Che non missa un colpo Non mi che mi fa Il cosplay Di Zerg Porco due Questo Aiaiaiaiai Minchiaiai Ha preso la sagoma Che non esisteva Ciao Ritos Come va Madonna quella cosa la odio Lol Cioè quindi riesci a fare questo Col mute Britta cosa L'ha messo un po' troppo a destra O non l'ha appiccicata al muro O comunque puoi passare Ma non penso tu possa passare da lì Madonna povero uomai Si sarà cagata addosso Eh Validitos Per ora si ce l'ho fatta Poi se mi da problemi con le registrazioni Chiudo però Un momento Oppure se raga Io non so sinceramente Se le live su tiktok Facciano qualcosa o no Se servano o no Sinceramente Io Non lo capirò mai Però Tanto Se continua ad andare Non mi costa niente Alla Ghi per Valkyrie Oh sempre Twitch Minchia c'ha un HP raga Ce ne ha due Scusa Scusate Vabbè hanno preso tutto La parte bathroom Hanno il muro soft Madonna Che troll che hanno fatto raga Ora Che cazzo ho fatto Ora Mi potreste spiegare Come Penso fosse doc Doc Non ha sentito Quello Entrare lì In prep Ora Io dico Doc A quel livello Ma sarà I stronti Era un'affermazione C'è veramente Questa cosa L'ha persa Doc Perché è un bidone C'era Il ferrido C'era Il Come si chiama Il Il porn Che è scoppiato E Doc E Ecco Lì Eccolo sei tu Attenzione Ci danno subito Le impostazioni Ragazzi Se volete copiare Prendete spunto Lui ci dà Tutte Le sue Impostazioni Lui Al momento È Trecento Tredicesimo Non lo so Non capisco In altra testa Comunque champion Ovviamente Sono tutte le sue impostazioni Ragazzi Non ve le schifo Le faccio passare tranquilli Così almeno Non vi confondete Ciao Bertù Come va Guardavo tipo Tre quattro anni fa Su Rocket Lo porto sul secondo canale Se vuoi Ancora Certo Non come prima Centotredicesimo Tu dici che quello è centotredici Non lo so Sinceramente Potrebbe essere Potrebbe essere Potrebbe essere Ovviamente ragazzi Noi Prendiamo le stats Cioè noi copiamo I settaggi Solo Del primo Al mondo Perché se non sei primo al mondo Sei un bidone di merda E quindi noi I tuoi settaggi Non li vogliamo Giusto Shot Che c'è ferro Di coprire i settaggi Di uno Centotredicesimo Ma stiamo scherzando Veramente Johnny Veramente Comunque ragazzi Questo era Hitman JDA Con Fino a un certo punto Con la mira del merda Poi Ha cambiato E forse Ha fatto giocare il fratello Non lo so E un attimo risalito Però a un certo punto Stavo dicendo Ma giusto Zerg Però Dampi Gigi E un attimo rispondi 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 Grazie a tutti.